Una bella conferenza stampa di saluti quella di Mr. Gigi Panarelli. Dopo la conclusione del campionato il tecnico Tarantino ha voluto ringraziare il presidente, i calciatori, tutti i dirigenti, i giornalisti e l'ambiente per l'anno vissuto insieme. Un pensiero particolare alla grande tifoseria Rosso Blu. Panarelli ha ricordato la spinta ricevuta per vincere la partita casalinga oltre il novantesimo contro la Savoia. Non abbiamo vinto il campionato, ha detto, ma per il 90% questo è un obiettivo quasi raggiunto. Poi le spiegazioni, o meglio ha cercato di individuare quali sono stati i motivi che hanno portato alla finale di Cerignola e comunque ha sottolineato anche le belle prestazioni e i momenti importanti vissuti in questo campionato. Ho voluto fortemente questa conferenza stampa perché il tema di questa conferenza stampa, credetemi, lo sento proprio dentro di me che dovevo ringraziare tutte queste persone perché c'è stato un percorso forte, un percorso che ci ha fatto gioire tutti quanti insieme. Ho fatto l'esempio di 10.000 persone qui oppure al novantesimo il gol di Croce con il Savoia, ci ha portato tutti in cielo. Io ancora oggi devo vedere quello che può essere anche migliorabile per me, quindi non sto qua a dire se la meritavo o non la meritavo. Tu stesso hai detto che la meritavi perché sul campo l'hai meritata, però poi si possono anche non condividere le cose, però poi uno prende delle decisioni e vanno rispettate tantissimo. Perché ripeto e sottolineo, io devo ringraziare quest'uomo che è il presidente Massimo Giove che mi ha dato l'opportunità di guidare una squadra blasonata e una squadra importante come quella del Taranto. Per tutte le partite l'unico risultato che noi avevamo, ce lo siamo sempre detto, è la vittoria. Non serviva pareggiare, ma non serviva pareggiare anche per quello che stava facendo una squadra lì davanti a noi. Può essere anche la cavalcata, ci ha prosciugato. 10 vittorie e 9 partite, compreso il pareggio con l'Andria, e ancora non si riusciva a prenderli. E credo che magari nella testa, in qualcosa, ci può essere uno scoramento. E non dico che questa è la giustificazione primaria, però io con voi a mente serena e con voi a voce alta cerco anche oggi di capire ancora di quello che è potuto essere. Però la volontà della squadra, la volontà mia, la volontà dello staff, della società, era quello assolutissimamente di poter vincere questo campionato. Non l'abbiamo vinto, però credo che il 90% si può dire che hai fatto delle grandi cose.